Sono stato suggestionato da alcuni visitatori lo scorso anno che venivano appositamente dalla Francia per vedere dei quadri di Alan Alfieri. Tra l'altro ha un suo modo di esporre i quadri in una galleria tutta sua ristrutturata, che è anche molto bella, e ha un modo diverso da qualsiasi altro pittore di esporre le sue opere. È una grande passione quella di Alfieri che sta portando avanti da anni e si vede dei cambiamenti di stile, per quello che ne posso capire io, sempre molto evidenti e mi fa piacere che abbia degli estimatori che sanno valutare i suoi dipinti e apprezzarli notevolmente, ne venire appositamente. Per cui ho piacere che ogni anno Alfieri tenga la sua mostra e che possa essere anche lui un richiamo ulteriore per Berceto e mettere questa caratteristica, questa etichetta bella nel nostro paese di paese di artisti.